Amiche e amici di RomaGelorossa.it ben ritrovati da parte di Marco Violi Allora, questo è un video diverso, poi nel pomeriggio dalle 14 alle 15 e 30 parleremo di calcio però questo è un video diverso, un video di denuncia, un video dove chiediamo il vostro sostegno morale, psicologico, chiediamo il sostegno di tutti coloro che vogliono bene a RomaGelorossa.it sono tanti perché gli attacchi che stiamo ricevendo da più parti dal mondo della comunicazione, dal mondo del giornalismo romano, dal mondo anche del giornalismo sportivo italiano nei confronti di RomaGelorossa.it è una realtà indipendente che non dipende da nessuno, che non ha radio dietro, che non ha editori dietro importanti, che non ha rcs dietro, che non ha una radio romana guidata da Caltagirone dietro, non ha personaggi importanti dietro che spingono questo o quella tesi, ma siamo un'entità libera con un nostro cervello pensante che cerchiamo di dare un'informazione concreta, libera, senza condizionamenti, non dovendo dipendere appunto da nessuno, dà fastidio, dà fastidio enormemente e quindi ci troviamo sui social, per le radio eccetera, attaccati da ogni parte. Il modo per contrastare questa situazione è seguire solamente RomaGelorossa.it e seguire costantemente RomaGelorossa.it Io non chiedo donazioni su YouTube, su uno solo canale YouTube, per quanto riguarda la web tv, non chiedo chiunque voglia, chiaramente è ben avvenuto, è ben accetto, è un piccolo aiuto, anche minimo, ma noi non chiediamo niente di tutto questo, chi vuole, ripeto, può fare, ma noi non lo chiediamo, chi vuole abbonarsi ai nostri contenuti esclusivi lo può fare, ma noi non lo chiediamo esplicitamente, chi si sente di aiutarci lo può fare e questo chiaramente verrà ricompensato con la nostra massima serietà, con il nostro massimo equilibrio nei giudizi e soprattutto con notizia in esclusiva che da oggi in poi, per quanto riguarda il mercato, metterlo solamente in abbonamento, perché coloro che si sono abbonati a RomaGelorossa.it, sul nostro canale YouTube, devono avere una corsia preferenziale, per quanto riguarda il resto, ci saranno le trasmissioni chiaramente libere, dove cercheremo di parlare di tanto, tanto altro. Detto questo, c'è un attacco trasversale da ogni parte sui social, un tantam incredibile per denigrare il lavoro di RomaGelorossa.it, per denigrare la mia persona, per denigrare il lavoro che io e Maria Paola Violi facciamo costantemente su RomaGelorossa.it, poi per quanto riguarda me e la mia attività primaria, per quanto riguarda Maria Paola Violi, è un'attività secondaria, lei mi aiuta su RomaGelorossa.it, essendo direttore di titolare e curando la comunicazione con le altre testate giornalistiche quando deve mandare comunicati, eccetera. Quindi, cioè, comunque è una figura importante, ma, ripeto, è gestita interamente da me. Voglio colpire me, la mia famiglia, tutto coloro che comprende RomaGelorossa.it, perché RomaGelorossa.it è, appunto, gestita interamente dalla famiglia Violi. Quindi voglio colpire RomaGelorossa.it e colpendo RomaGelorossa.it voglio colpire anche la famiglia Violi. Noi questo non lo dobbiamo permettere, noi questo lo dobbiamo contrastare, noi questo lo dobbiamo combattere. In che modo? Facendo seguire, sentire la vostra presenza costantemente, magari nelle live di RomaGelorossa.it, che conduciamo tutti i giorni alle 14 alle 15.30, oppure tramite un hashtag, appunto, su Twitter, sui social, su Facebook, su Instagram, Io sto con RomaGelorossa, lanciamo questo hashtag, Io sto con RomaGelorossa, oppure Io sto con Marco Violi, Io sto con RomaGelorossa. Lanciamo tutti questo hashtag, commentate in massa su questo video, mostrando a noi la vostra solidarietà, se volete. Leggendo, fidelizzandovi a RomaGelorossa.it e non leggendo più gli altri siti internet che scrivono una marea di sciocchezze sulla Roma e che non sono assolutamente affidabili e attendibili. Perché dietro un sito internet c'è un editore, c'è una radio, c'è un cartaggirone di turno, c'è un RCS di turno, eccetera, eccetera. O un network come tutto il mercato web, eccetera, eccetera, eccetera. Nessuno è libero di fare niente. L'unico sito veramente libero che vi dà notizie attendibili, perché quella di Senesi, l'abbiamo data giorni e giorni fa, la Gazzetta dello Sport è arrivata dopo tre giorni sulla notizia di Senesi, poi se arriverà o non arriverà, non dipende da me, cercheremo di capirlo anche durante le nostre dirette. Però, e ripeto, sarà un'esclusiva solo degli abbonati di Roma Giallarossa TV, perché dobbiamo premiare anche chi si fidelizza a Roma Giallarossa TV. Ripeto, il costo di abbonamento è di 2,99 euro, quindi veramente sono tre al mese, quindi neanche a video, al mese, e in un mese avrete dei contenuti eccezionali, eccezionali. Detto questo, credo che in questo momento fidelizzarvi a Roma Giallarossa.it mostrando sui social la vicinanza a Roma Giallarossa.it con l'hashtag Io sto con Marco Violi oppure Io sto con Roma Giallarossa è un modo per creare feeling ed empatia tra di noi. Tra l'altro oggi è il giorno del compleanno di Roma Giallarossa.it perché Roma Giallarossa.it nasce il 4 marzo 2008, ma il 17 novembre del 2009 diventa testata giornalistica. Quindi sono 12 anni di attività come testata giornalistica e 13 già passati come attività solo su Roma Giallarossa.it Quindi è un giorno importante, un giorno in cui io chiedo veramente la vicinanza da parte vostra con un semplice hashtag Io sto con Marco Violi o Io sto con Roma Giallarossa mostrando nei commenti tanta affetta e vicinanza perché ne abbiamo bisogno. Perché gli attacchi sono trasversali e sono veramente dappertutto. Dappertutto. Me ne sto accorgendo in queste ore perché stiamo facendo un prodotto di successo che sta smuovendo l'opinione pubblica e un sito che non è piccolo, è molto grande, sta togliendo una fetta di pubblico anche con le Radio Cronache a network molto più importanti, con le Radio Cronache noi stiamo togliendo una fetta importante di pubblico alla gente ed è per questo che appunto diffamano me, diffamano Roma Giallarossa, diffamano la mia famiglia dicendo che portiamo madre, portiamo sfiga per quanto riguarda le Radio Cronache della Roma, tutte stronzate o della nazionale, tutte stronzate naturalmente. Quindi dateci il vostro sostegno, mostrateci il vostro sostegno, scriveteci qui sotto nei commenti ma soprattutto nei social, su Twitter e su Facebook, Instagram eccetera abbiamo anche la nostra pagina Instagram, il nostro profilo Instagram romagiallorossa.it, cercatelo perché è facilissimo romagiallorossa.it, la nostra pagina Facebook romagiallorossaofficial e cercate appunto romagiallorossa.it mettetevi nei vostri profili io sto con Marco Violi oppure io sto con Roma Giallorossa e ve ne saremo grati. Questo è il messaggio che mi sentivo di dare fateci sentire la vostra vicinanza, veramente fateci sentire la vostra vicinanza e portiamo in tendenza io sto con Marco Violi io sto con Roma Giallorossa dobbiamo scatenare l'inferno per far capire a loro signori dell'informazione romana e dell'informazione nazionale che odiano la Roma e che odiano me perché difendo la Roma e perché difendo chiaramente i Fritkin che noi siamo più forti di tutto e di tutti anzi lanciamo questi hashtag io sto con Marco Violi io sto con Roma Giallorossa e cercate se volete di mandarci messaggi di affetto e di sostegno e se poi volete fare ancora un passettino ulteriore mostrateci durante le nostre dirette oppure durante la giornata se volete abbonarvi al chiaramente ai contenuti esclusivi potete farlo se volete o vorrete donare qualcosa sarà ben accetto ma solo se ve lo sentite perché perché Roma Giallorossa.it deve vivere deve continuare deve essere un prodotto che non deve morire qui come molti vorrebbero un saluto da parte mia e ci sentiamo oggi pomeriggio dalle ore 14 alle 15.30